Dopo le proteste dei lavoratori dell'RSU dell'area Basta 3 contro l'Asur Marche, siamo in compagnia del direttore generale Piero Ciccarelli che intende fornire delle risposte al grido che si è allevato ieri proprio dall'ospedale di Macerata. Sì, io ringrazio intanto di questa occasione per poter dare una risposta, in realtà la mia intenzione non è dare una risposta alle legittime lamentele, doglianze, le organizzazioni sindacali, soltanto tengo a precisare il motivo per cui io sono qui in prima battuta, è perché alcune affermazioni non mi piacciono rispetto al livello di servizi che eroghiamo, così come quella che ci si avvia la chiusura dei servizi in maniera indiscriminata. La realtà che non viene detta è che dobbiamo organizzare un servizio che è riconosciuto fino al 2012, quindi fino a pochi giorni fa, su scala nazionale ai livelli alti della qualità come servizio sanitario pubblico e con i conti in equilibrio, con 180 milioni di Euro, 370 miliardi di lire per capirsi, in meno piccoli ospedali cosiddetti, li dobbiamo riconvertire fortemente, dobbiamo mantenere gli ospedali di rete, detto fuori dalle righe, fuori dai tecnicismi, l'ospedale di Civitanova Marche, l'ospedale di Macerata e l'ospedale di Camerino Trattino Sanseverino, quando questo progetto che è stato avviato d'intesa con le organizzazioni sindacali, poi possono non essere d'accordo, ma non possono dimenticare che nel mese di giugno e luglio, per due mesi, il direttore Bordoni, due mesi le ha passati a confrontarsi con le organizzazioni sindacali, non era richiesto l'accordo sulla progettazione perché un sindacato non deve fare un contratto, la riorganizzazione è materia dell'amministrazione, eppure è stato fatto un ampio confronto che tra l'altro si è concluso con un esito soddisfacente. Tutti i giorni vengono fatte contrattazioni, questa mattina io arrivo adesso, mi ha informato il dottor Bordoni che hanno concluso un accordo rispetto a un aspetto di critica che è stato fatto sui pagari.